Un saluto dal Tg della mobilità dalle 22 alle 6 di domani mattina, lavori nel sottovia Inelcio Guidi tra Corso Italia e Viale del Muro Torto, divieto di transito tra Viale del Policlinico e Corso d'Italia in entrambe le direzioni e su tutta la sede stradale di superficie dal sottovia Guidi al Muro Torto. I divieti interesseranno anche le rampe di accesso da Via Nomentana e da Piazza della Croce Rossa, previsto sempre dalle 22 alle 6, lo spostamento di percorso per le linee di bus 89, 490 e 495, disattivate anche due fermate in Corso Italia. E in Via Nomentana, cantiere sulla rete idrica e in particolare sulle condotte all'altezza di Via Ettore Romagnoli, in questo tratto senso unico alternato sino al prossimo 14 settembre. E tutto appuntamento alla prossima edizione.